Le mille anime e sfumature del Valtilone Festival comprendono anche la lirica, come si è potuto scoprire in quadri d'opera, concerto che si è tenuto domenica scorsa a Pianello all'interno del cortile del teatro comunale, ad esibirsi gli allievi della masterclass di canto, tenuta dalle docenti Maria Laura Groppi e Rossella Redoglia. Di fronte a un folto pubblico a corso per l'occasione, i giovani cantanti hanno così potuto sfuggiare il proprio variegato repertorio, portando in scena frammenti d'opera in forma di concerto. Il direttore artistico Olivio Bollani ha inoltre sottolineato che il 20% dei posti all'interno dei corsi del festival era riservato a cantanti non professionisti, che dunque, grazie a questa occasione, sono riusciti ad acquisire competenze ed esperienza. Largo quindi agli ottimi cantanti. Infine, immancabile, tutti i cantanti insieme a suggellare la serata, ricordando epopee favolose con Brindisi, tratto dalla traviata di Verdi. Crescendo tecnico emotivo, canzoni e colonne sonore di film celeberri nella prima, classici nella seconda parte. Anche questo è il Valtirone Festival.